salve a tutti ragazzi bentornati sul mio canale oggi parliamo di una soluzione abbastanza smart che sonoff ci propone proprio in caso di problemi di perdite d'acqua parliamo dello zigbee sonoff snzb 05p un device quindi zigbee che ci permette di rilevare se in casa abbiamo perdite ma prima di iniziare con il video di oggi mi raccomando iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto attivando anche la relativa campanella delle notifiche impianti sul nostro sito www.fattaladasolo.it per trovare tante altre recensioni su prodotti sonoff il sonoff snzb 05p è un sensore zigbee and device quindi a batteria pensato per comunicarci eventuale perdite idriche in casa ponendolo in prossimità ovviamente discarichi rubinetteria o anche vicino ad elettrodomestici che proprio con l'acqua ci lavorano ad esempio la lavatrice l'idea può sembrare banale ma è davvero utile ai fini della prevenzione essendo un dispositivo quindi della rete zigbee questo device è custodito nella classicissima scatolina arancione della sonoff con le immagini come sempre sappiamo stilizzate sul fronte e con una serie di informazioni riportate invece sul retro il bundle invece è costituito oltre che dal sensore dal cavetto di cui parleremo tra un po' è molto importante e anche della manualistica abbiamo anche dei fermi per questo capo ma non è importante in questo momento il sonoff snzb 05p si presenta con una forma dal design squadrato e minimale realizzato in policarbonato bianco e le dimensioni appunto sono molto ridotte 48 per 48 per 21,6 mm sulla parte superiore del sensore troviamo due contatti placati in oro proprio per resistere meglio all'ossidazione che costituiscono il vero e proprio contatto del sensore non a caso sono collegati anche nella parte superiore di questo dispositivo infatti esso ha una forma concava ideata per raccogliere l'acqua e quindi attivare al meglio il sensore in poche parole l'acqua crea un piccolo cortocircuito se così lo vogliamo definire in modo tale che il sensore possa rilevare e segnalare quindi la presenza di acqua al di sotto dei contatti troviamo poi il vero e proprio sensore alimentato da una batteria cr2477 a 3 volt accessibile ruotando la base che è ben impermeabilizzata la durata di questa batteria è garantita per circa cinque anni ruotando poi questa base impermeabilizzata notiamo che essa copre anche il pulsante di reset utilissimo per il pairing è un led di stato infine parliamo del cavetto dato in dotazione formata da una parte più ampia diciamo una testa su cui è presente un magnete che permette di essere agganciato con sicurezza al sensore invece una parte più lunga infatti questo cavetto permetterà di monitorare zone ben più ampie già che basterà che solo una piccola porzione di questo cavetto sia bagnato affinché il sensore quindi rilevi una perdita ecco perché questo device è ideale da utilizzare avvolgendolo attorno per esempio la tubatura o semplicemente al di sotto di lavatrici frigoriferi o altri dispositivi che come abbiamo detto poc'anzi lavorano proprio con l'acqua parliamo infine della configurazione lo faremo sempre visto con dispositivo zigbee a marchio sonoff prima con i we link e poi con home assistant apriamo quindi l'app i we link e premiamo sul pulsante in alto a destra e selezioniamo scansiona il qr code questo qr code sarà presente su uno dei lati del dispositivo quindi inquadriamo lo e attendiamo si aprirà quindi la procedura guidata che ci spiega passo dopo passo come effettuare il pairing quindi ci spiegherà cosa dobbiamo utilizzare per esempio dobbiamo premere il bottone di reset dobbiamo aspettare che il led si attivi e tutto quanto ci spiegherà quindi tutto questo ci chiederà poi di associarlo a uno dei bridge in nostro possesso nel nostro caso lo abbiamo associato allo zigbee ultra e infine attendiamo l'associazione del dispositivo che avverrà all'incirca in qualche secondo ora essendo un sensore binario non è che abbia tutte queste impostazioni comunque resta utile la possibilità di consultare la cronologia di tutti gli eventi e troviamo anche abbastanza graziosa l'animazione del rilevamento della perdita ora lasciandolo ovviamente solo fine a se stesso non ci sembra tutta questa grande utilità ma possiamo associarlo ad alexa associazione che avviene diciamo così quasi immediatamente ma quello che ci interessa in questa cosa di più è provare a creare qualche automazione richiedendo proprio il supporto di alexa quindi quando il sensore rileverà una perdita alexa ci darà un messaggio di allagamento quindi ci stiamo allagando e lo andiamo a riprodurre su uno dispositivo alexa presente all'interno della nostra casa passiamo invece lato home assistant e come sempre ci affidiamo al vecchio e caro zigbee 2 mqtt avviando la scansione viene rilevato e configurato correttamente il sensore come ovviamente per tutti i sensori e batteria oltre allo stato binario del sensore possiamo monitorare proprio il livello della batteria e anche tra le altre entità la qualità del collegamento quindi integrazione avviene perfettamente concludiamo così questa brevissima recensione su questo prodotto molto interessante e molto utile fatemi sapere ovviamente voi nei commenti cosa ne pensate ci vediamo allora prossimamente con altri contenuti un abbraccio ciao 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 ciao